Zampa! 32 chilometri da oleggio, origine della ferrovia. Verso Laveno e Bellinzona, verso Novara, verso Sangiano Centro Paese. Il passaggio a livello di Sangiano sulla linea Luino-Novara. Il passaggio a livello di Sangiano Centro Paese. Siamo a Sangiano, al passaggio a livello sulla linea Luino-Novara. A Sangiano, nel territorio comunale, passa anche la linea Gallarate-Laveno, con la stazione ferroviaria che serve il comune. Verso Bellinzona, verso Novara. Il passaggio a livello chiuso. È martedì pomeriggio, siamo a maggio. ore 13 e 06. Il binario nuovo verniciato di bianco per evitare che col caldo si dilatino le rotagne. Zampo! Zampo! Pertinanziare! Si! Si! E' fermata! Pertinanziare! L'amore! Sopo! Ora! Sopo! Grazie a tutti. Verso San Giano, centro paese. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Verso Novara, verso Bellinzona. Zampa! È appena passato un treno merci proveniente da Gallarate. Il passaggio a livello di San Giano sulla linea Luino-Novara. Da gennaio del 2014 la tratta è chiusa al servizio viaggiatori. Si abbassa di nuovo il passaggio a livello. È martedì pomeriggio. Siamo a maggio. Il passaggio a livello di nuovo chiuso. Zampa! Zampa! Verso Novara, verso Bellinzona. Il passaggio a livello di nuovo chiuso. 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 Siamo a San Giano al passaggio a livello sulla linea Luino-Novara. Siamo a San Giano 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 Siamo a San Giano